Buongiorno a tutti, vorrei soffermarmi in particolare, ed è quello che faremo, sulle metamorfosi della figura di Beatrice, quindi sulla necessità di pensare a Beatrice non come una creatura che rimane sempre immutata e immutabile, ma ad una creatura che muta con il poeta che la rappresenta e che poi, come tutti sappiamo, compirà un viaggio e che viaggio per rivederla.